E' ancora bufera sulla Banca Popolare di Marostica. Le dimissioni del Vicepresidente Mario Meneghini hanno causato la caduta del Consiglio di Amministrazione. Con le dimissioni di Meneghini, a quanto pare per ragioni di salute, è successo proprio quanto previsto dalle norme di statuto, venendo a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti. Il Consiglio di Amministrazione della Popolare di Marostica, infatti, è composto da nove membri, ma di questi ce ne sono ben quattro scelti per cooptazione in attesa di essere votati ed approvati dall'Assemblea. Un annullamento del CDA che di fatto fa scattare ciò che la Banca d'Italia aveva richiesto in primavera, ovvero la sostituzione dell'intero consiglio, richiesta che era stata respinta a larghissima maggioranza dei soci a luglio. Il Consiglio di Amministrazione di ieri ha inoltre sospeso il direttore generale Gianfranco Gasparotto, attribuendo le funzioni ad interim al dirigente Giuseppe Viero. L'organo amministrativo, si legge in una nota della Banca, prosegue la sua azione di governo con pieni poteri fino alla prossima Assemblea, rispettando anche gli impegni assunti con la lettera di intenti siglata con la Banca Popolare dell'Alto Adige.